Tra tutte le acquisizioni fatte in questo mercato dalla Juve, possiamo dire che Juan Cabal è stata la più sorprendente. Non perché fosse un accordo difficile, ma perché l'accordo con il Verona è stato fatto con grande rapidità. Juan Cabal si sta distinguendo nella Juventus e, con solo tre partite in Serie A, è già stato sufficiente affinché il suo nome emergesse sul mercato. Secondo le informazioni, il Manchester United ha iniziato a osservare Juan Cabal. Il club inglese è in programma di inviare presto un'offerta milionaria per portarlo via dalla Juventus. Se il rendimento di Cabal rimarrà buono, credo che lo United potrebbe farci un'offerta di 20 a 25 milioni. Ma sono certo che la Juventus non lo venderà, poiché Cabal, da quando è arrivato a Torino, ha mostrato un rendimento solido in difesa e una grande capacità di supportare l'attacco. Inoltre, ha molto potenziale per crescere.